Sui dati, sui reati, in questo 2019, i reati in Italia sono diminuiti del 15%. Ma è già merito suo, ministro? No, non merito mio, non merito mio, non merito mio. Merito di polizia, carabinieri e forze dell'ordine, perché il lavoro lo fanno loro. Io ci metto una piccola parte di merito assumendone di più di poliziotti e carabinieri, cambiandogli le divise, cambiandogli mezzi a disposizione, mettendogli a disposizione la pistola elettrica dal prossimo mese di giugno, aprendo nuovi commissariati, nuovi comandi dei vigili del fuoco. Questo può fare un ministro di interno, poi questo è tutto merito degli inquirenti e delle forze dell'ordine. Però evidentemente se far rispettare le regole per qualcuno è pericoloso, è fascismo, è nazismo, è razzismo, bloccare gli sbarchi cos'è? Fascismo, nazismo, razzismo? No. Era un impegno che ho preso con gli italiani in campagna elettorale e che ho mantenuto, riducendo del 92% gli sbarchi di immigrati clandestini sulle coste italiane. Il vero miracolo ministro...